buonasera parliamo dei testimoni di geova in questa terza parte parleremo dell'edificio di culto dei testimoni di geova della loro bibbia e della questione dei disassociati ora esternamente come si riconosce un edificio di culto dei testimoni di geova beh si riconosce da la scritta sala del regno dei testimoni di geova questo è l'unico elemento che esternamente ci permette di capire che siamo di fronte a un edificio di culto di questa comunità religiosa come vedete da questa immagine senza quella scritta è una casa normale infatti noi vedremo nelle prossime immagini che una sala del regno dei testimoni di geova può essere un una villetta che è stata adibita a quest'uso può essere un altro edificio assorto per altre per altri motivi che è stato adattato a questa funzione o che è stato costruito per questo motivo guardate questa immagine anche questa volta l'unico elemento che ci permette di capire siamo di fronte a un edificio di culto di questa comunità religiosa è la scritta che si intravede in bianco sulla destra aggiungiamo che esternamente su un edificio di culto dei testimoni di geova non è presente nessun simbolo religioso l'abbiamo già detto i testimoni di geova non usano la croce perché abbiamo già visto perché la ritengono sostanzialmente un simbolo pagano cioè non cristiano e perché secondo loro dio avrebbe vietato nella bibbia la venerazione di immagini per non cadere nella idolatria quindi esternamente ma anche internamente in un edificio di culto non c'è nessun simbolo religioso anche qui siamo di fronte a una sala del regno dei testimoni di geova perché i testimoni di geova non chiamano i loro luoghi di culto chiese secondo i testimoni di geova nella bibbia il termine greco che a volte viene tradotto chiesa si riferisce a un gruppo di fedeli non all'edificio dove si riuniscono dove nasce quale significato ha l'espressione sala del regno dei testimoni di geova loro dicono uno perché si tratta di una sala di un luogo di riunione due perché si radunano per adorare geova per rendergli testimonianza e anche per imparare quello che la bibbia dice riguardo al regno di dio quindi ecco il significato dell'espressione sala del regno dei testimoni di geova vediamo adesso invece internamente come è fatta una sala del regno molto semplice molto spoglia innanzitutto per il discorso di prima non c'è nessun immagine né di dio né di esseri umani non ci sono statue di santi non ci sono raffigurazioni di angeli neanche di profeti vedete non c'è nessuna immagine altra cosa da dire in una sala del regno non c'è l'altare ora in fondo non c'è l'altare guardate il puntino rosso questo adesso vedremo non è un altare ma è un pulpito cioè è un elemento architettonico che serve per leggere dei testi e per tenere un discorso ma non è un altare perché non c'è l'altare beh abbiamo visto che nelle riunioni dei testimoni di geova non c'è il rito del pane e del vino quindi non c'è bisogno di un altare anche perché per i testimoni di geova se in una chiesa cattolica l'altare simboleggia cristo per i testimoni di geova gesù non è il figlio di dio quindi non c'è l'altare ma c'è un presbiterio con il termine presbiterio si intende questa parte spesso rialzata dove si trova il pulpito e dove siedono coloro che guidano la riunione o che leggono le scritture appunto ecco che cos'è il pulpito in questo caso ne abbiamo due ecco che cos'è il presbiterio questa zona, questa zona è chiamata presbiterio questo è il pulpito quindi è un elemento come detto prima che serve per leggere dei testi e per tenere un discorso vedete che non ci sono immagini spesso c'è una scritta che fa riferimento a geova anche all'interno ecco un altro esempio di sala del regno vedete è una sala molto semplice le sedie per i fedeli e in fondo abbiamo il presbiterio questa zona è il presbiterio il pulpito e anche qui c'è una scritta non ci sono immagini ancora un'altra sala del regno i fedeli vedete che in una sala del regno non c'è la divisione tra uomini e donne non ci sono immagini c'è il presbiterio c'è il pulpito e anche qui c'è una scritta non c'è nient'altro a questo punto voglio farvi vedere due video il primo mostra una sala del regno il secondo spiega come quando i testimoni di geova costruiscono una nuova sala del regno ci sono molti membri di questa comunità che da diverse parti del mondo vengono e gratuitamente prestano il loro servizio vediamo oggi giorno la felicità la vita di Geova per noi a parte il problema che prove la gioia che Geova ci dà è come una fiamma che arte niente mai la spedierà per Geova che gioia ci dà stupenda ogni cosa che fa le opere sue i pensieri sui l'amore che mostra per noi che gioia ci dà condentare ciò che ha creato per noi i cieli da terra e il mare ci dicono tanto di gioiosi parliamo del regno di quello che ceva farà mettiamoci a muore di il regno più forza nel si tratta di un progetto unico perché è la prima sala del regno nell'arcipelago ma c'è qualcos'altro di unico abbiamo deciso di pianificare il lavoro in cinque fasi con cinque squadre che si avvicendano per costruire due sale del regno nell'arco di 28 giorni ogni squadra sostituisce la precedente mentre una vola a Saint Pierre dalla città di Quebec l'altra vola a Goose Bay che si trova a 800 chilometri di distanza nell'Abrador qualche settimana prima dell'inizio dei lavori abbiamo mandato due camion con le attrezzature e il materiale così che tutto fosse pronto per l'arrivo della prima squadra le cose più preziose che abbiamo sul cantiere non sono i materiali edili ma i nostri volontari sono così ubbidienti e manifestano il frutto dello spirito compresa la gioia quando c'è uno spirito gioioso tutto fila liscio e il lavoro va che una meraviglia ci prendiamo cura degli alloggi per i volontari vogliamo che tutti si sentano a loro agio e siano pronti per il lavoro è come se avessimo 40 figli sì e io sono la loro seconda mamma il compito della prima squadra di volontari era tirar su la struttura portante hanno installato i muri le travi del tetto i pannelli e le tegole canadesi la seconda squadra invece doveva occuparsi dell'installazione dell'impianto idraulico e poi dell'isolamento e dopo abbiamo montato il cartongesso sarà difficile andare via da Saint-Pierre Micheloni per me è un vero onore essere qui con i miei fratelli e le mie sorelle sono proprio contento tutto era pronto per l'arrivo della terza squadra loro si sono occupati della nastratura del cartongesso della tinteggiatura e dell'installazione del controsuffitto la quarta squadra ha lavorato al rivestimento dei pavimenti mochette e piastrelle hanno anche realizzato i V8 in cemento è meraviglioso sentirsi uno strumento nelle mani di Geova abbiamo sperimentato di nuovo la nostra unità internazionale e infine l'ultima squadra la quinta ha completato il tutto si è occupata delle porte delle finiture interne dell'impianto acustico dell'arredamento e ha collocato l'insegna che identifica l'edificio come una sala del regno dei testimoni di Geova ringrazio Geova tutte le sere per questa sala del regno gli sono infinitamente riconoscente per averci fatto un regalo così bello ci offre un'opportunità unica per dare testimonianza è incredibile dietro c'è tanto lavoro ma ne vale decisamente la pena passiamo adesso ad affrontare l'argomento della Bibbia dei testimoni di Geova eccola qui la Bibbia dei testimoni di Geova notate innanzitutto il nome traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture ora quando vedrete un libro con un titolo con questo titolo individuerete subito si tratta della Bibbia dei testimoni di Geova infatti gli altri gruppi di cristiani non usano questa denominazione questo nome diciamo che appunto questa è la traduzione della Bibbia dai testi antichi effettuata dai testimoni di Geova allora dovete ricordare che ogni se parliamo delle diverse confessioni cristiane ogni confessione cristiana ha una sua traduzione della Bibbia i cattolici hanno una Bibbia tradotta da loro gli ortodossi hanno una loro traduzione le chiese protestanti stessa cosa quindi non c'è una traduzione della Bibbia che sia valida per tutti semplificando ogni gruppo religioso ha una sua traduzione quindi questa è la traduzione che usano esclusivamente i testimoni di Geova i cattolici non usano questa traduzione i cristiani ortodossi neanche e neanche i cristiani protestanti come c'è scritto nel secondo punto è dal 1950 che i testimoni di Geova hanno una loro traduzione infatti noi abbiamo visto che i testimoni di Geova nascono intorno al 1870 infatti dicevo all'inizio i testimoni di Geova non avevano non avevano una bibbia propria ma per lo più usavano bibbie protestanti appunto solo dopo il 1950 pensarono di curare una loro traduzione secondo i testimoni di Geova era necessaria una traduzione fedele alla parola di Dio che vuol dire questo è chiaro che ogni gruppo religioso ritiene che la sua traduzione sia quella più corretta quindi è chiaro che per un cattolico la bibbia migliore è quella cattolica per un testimone di Geova la traduzione migliore delle sacre scritture dai testi antichi è quella di testimoni di Geova quindi è chiaro che ogni gruppo ritiene che la propria traduzione della bibbia sia la migliore e anche i testimoni di Geova fanno questo ragionamento poi la traduzione del nuovo mondo ha ripristinato il nome divino Geova abbiamo già trattato questo discorso i testimoni di Geova dicono i diversi gruppi cristiani cattolici ortodossi eccetera nel tradurre le loro bibbie hanno eliminato il nome Geova questo è il discorso che fanno i testimoni di Geova mentre loro dicono noi abbiamo rimesso il nome di Geova perché era presente nelle antiche scritture questa immagine serve soltanto a ricordare che la bibbia innanzitutto è il libro mi risulta più stampato nel mondo e che vedete che questa è un'informazione di qualche anno fa la traduzione del nuovo mondo è stata tradotta in più sicuramente di 124 lingue alcune informazioni sulla bibbia dei testimoni di Geova per i testimoni di Geova la traduzione del nuovo mondo è la parola di Dio è ispirata da Dio secondo i testimoni di Geova la bibbia fu scritta da circa 40 uomini nell'arco di 1600 anni e Mosè avrebbe scritto i primi 5 libri considerate per fare un esempio che la chiesa cattolica non la pensa così quindi questa è una particolarità di testimoni di Geova inoltre la bibbia di testimoni di Geova è composta da 66 libri 7 in meno rispetto alla bibbia cattolica ecco qui andiamo a vedere quali sono i libri che compongono la traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture cioè che compongono la bibbia di testimoni di Geova abbiamo detto che è composta da 66 libri qui abbiamo i 39 libri che compongono quella sezione chiamata scritture ebraiche aramaiche è la sezione che ad esempio i cattolici chiamano antico testamento come vedete nelle scritture ebraico aramaiche che compongono la prima parte della bibbia di testimoni di Geova non sono presenti quei libri che vedete a destra che invece sono presenti nella bibbia cattolica questo schema invece mostra i nomi dei 27 libri della seconda sezione della bibbia di testimoni di Geova sezione chiamata da loro scritture greche cristiane sezione che viene invece chiamata dai cristiani cattolici nuovo testamento ora andiamo in sintesi a fare un confronto tra la bibbia di testimoni di Geova a sinistra e quella dei cattolici a destra diciamo che la bibbia di testimoni di Geova è diversa da quella dei cattolici sono due traduzioni diverse i testimoni di Geova usano la loro traduzione fatta da loro dai loro studiosi i cattolici usano una versione realizzata dai loro studiosi cosa vuol dire che è diversa adesso lo andremo a vedere quando un testimoni di Geova ad esempio durante la predicazione per strada girando per le case vuole provare che la sua affermazione è corretta nel momento in cui dice bene ecco andiamo a vedere ha scritto nella bibbia quello che ti sto dicendo e prende la bibbia è chiaro che la bibbia che prende è una sua traduzione che vuol dire che la bibbia di testimoni di Geova in sintesi è diversa da quella dei cattolici uno la bibbia cattolica e quella di testimoni di Geova sono due traduzioni diverse con differenti contenuti di fede testimoni di Geova e cristiani cattolici appartengono a gruppi religiosi diversi ognuno ha la propria traduzione della bibbia non sono interscambiabili e il contenuto di fede è diverso due il metodo di interpretazione biblica dei testimoni di Geova è diverso da quello dei cattolici cioè due gruppi religiosi possono anche avere lo stesso testo sacro ma possono interpretarlo in maniera diversa quindi è fondamentale il modo di interpretare un testo tre l'abbiamo già visto la bibbia dei cattolici ha sette libri in più rispetto a quella dei testimoni di Geova la bibbia dei cattolici è composta da 73 libri la traduzione del nuovo mondo delle sagre scritture è composta da 66 libri 4 per i testimoni di Geova tutte le affermazioni della bibbia anche dati scientifici e storici sono infallibili vorrei accennare a un certo discorso guardate le copertine di questi due testi il primo testo a sinistra titolo i testimoni di Geova e la falsificazione della bibbia a destra la bibbia dei testimoni di Geova traduzione o manipolazione qui ho messo due libri due esempi sono libri scritti da cristiani cattolici ora per il discorso che facevamo prima è chiaro che per un cristiano cattolico la traduzione migliore la traduzione corretta della bibbia è la sua e quindi non sorprende il fatto che qui abbiamo di cristiani cattolici i quali scrivono dei libri per affermare che la traduzione della bibbia di testimoni di Geova è sbagliata non è corretta non è fedele ai testi antichi questo fa parte della dialettica tra i diversi gruppi religiosi soltanto due informazioni come i testimoni di Geova sono criticati di stravolgere il messaggio della bibbia uno alcuni affermano che i testimoni di Geova strumentalizzano la bibbia per appoggiare le loro tesi che vuol dire vuol dire che i testimoni di Geova non fanno desumere le loro verità di fede dal testo della bibbia cioè non partono da quello che dice la bibbia ma farebbero il contrario cioè manipolano cambiano il testo delle scritture per far vedere che quello che credono loro è corretto due usano frasi bibliche staccate dal contesto ora a me non interessa dimostrare che in quest'ambito ho una traduzione più corretta di un'altra non è questo il mio obiettivo il mio obiettivo qui è presentare questo gruppo religioso e in questo capitolo presentare la loro bibbia quindi non c'è nessun tentativo di parlare male di questo gruppo religioso o di sminuire la loro fede assolutamente continuiamo a parlare della bibbia di testimo di geova alcuni esempi a sinistra vedete la traduzione di testimo di geova a destra la traduzione della chiesa cattolica come le due bibbie dei due gruppi religiosi diversi traducono uno stesso versetto della bibbia in questo caso è il versetto della lettera di san paolo apostolo ai romani capitolo 10 versetto 13 a sinistra i testimoni di geova nella loro bibbia traducono questo versetto così chiunque invoca il nome di geova sarà salvato a destra la chiesa cattolica traduce questo versetto invece chiunque invocherà il nome del signore sarà salvato quindi a sinistra geova a destra il signore che succede che la versione dei testimoni di geova è sono stati cattolici a tradurre male non va tradotto signore va tradotto geova noi i testimoni di geova abbiamo ristabilito il nome geova mentre la versione dei cattolici è no non si parla di geova ma si parla del signore cioè di gesù un altro esempio un versetto del vangelo di giovanni a sinistra la traduzione dei testimoni di geova giovanni capitolo 7 versetto 29 io sono un suo rappresentante riferito a gesù rispetto al padre a destra i cattolici io vengo da lui sotto un altro versetto del vangelo di giovanni capitolo 17 versetto 8 i testimoni di geova traducono sono uscito è gesù che parla come tuo rappresentante parla del padre a destra i cattolici sono uscito da te e che succede che nella traduzione dei testimoni di geova viene fuori che gesù è soltanto un rappresentante di dio è soltanto un messaggero è soltanto un uomo che ha una missione da parte di dio ecco perché c'è scritto suo rappresentante o tuo rappresentante invece nella traduzione cattolica e siccome i cattolici credono che gesù è la seconda persona della trinità fatta uomo cioè dio fatto uomo allora c'è una traduzione differente ma se devo prendere un brano dove la differenza è più lampante è proprio un brano preso dalla descrizione dell'ultima cena nell'ultima cena gesù insieme agli apostoli spezza il pane lo distribuisce agli apostoli e dice una frase a sinistra vediamo come traduce la bibbia dei testimoni di geova e mentre continuavano a mangiare egli gesù prese un pane disse una benedizione lo spezzò e lo chiede loro e disse prendete questo significa il mio corpo la traduzione cattolica e mentre mangiavano prese il pane e recitò la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo prendete questo è il mio corpo guardate da questi testi viene fuori una diversità di interpretazione per quanto riguarda il pane che viene mangiato per i cristiani per i cattolici durante la messa per gli estimoni di geova durante la commemorazione della morte di gesù cioè per i cattolici il cattolico che riceve la comunione che si ciba dell'ostia consacrata quel pezzo di pane è Cristo è proprio lui non è che è un simbolo non è che lo rappresenti invece per il testimoni di geova cibarsi cibarsi del pane durante la commemorazione della morte di gesù non significa mangiare veramente Cristo anche perché per loro Cristo Gesù non è Dio ma significa mangiare qualche cosa che simboleggia che ricorda Gesù differenza enorme un ultimo esempio è quello della crocifissione di Gesù a sinistra la traduzione dei testimoni di geova vangelo di marco capitolo 15 versetto 24 e lo misero al palo come traduce la bibbia cattolica poi lo crucifissero ecco noi abbiamo già visto per i testimoni di geova Gesù è stato inchiodato a un palo un palo verticale per i cattolici invece è stato crucifisso è stato inchiodato su una croce vedete che i due gruppi religiosi fanno desumere la loro il loro contenuto di fede dai loro testi biblici diversi come ultimo capitolo parliamo brevemente anche della questione dei dissociati chi sono i dissociati sono coloro che hanno fatto un cammino all'interno del gruppo di testimoni di geova cioè erano testimoni di geova ma a un certo punto hanno deciso di uscire da questa comunità religiosa appunto disassociati non sono più associati a questo proposito vi faccio leggere una testimonianza mi chiamo mi chiamo Enrico Lancellotti ho 20 anni e mi sono dissociato del testimone di geova da quasi due anni sono nato in una famiglia di testimoni di geova sono cresciuto quindi in un ambiente fortemente indottrinato sin da piccolo mi veniva insegnato a non legare con i compagni di scuola aggiungo io non testimoni di geova a non festeggiare i compleanni eccetera naturalmente tutto ciò mi sembrava giusto visto che alla mia allora tenera età avevo completa fiducia negli insegnamenti che mi venivano impartiti non appena cominciai a frequentare le scuole superiori cominciai a pormi delle domande importanti domande abbastanza classiche per la mia età come ad esempio perché non posso andare a mangiare una pizza con i miei compagni di scuola risposte sono cattive compagnie dovresti saperlo corrompono le tue utili abitudini ti sviano dalla strada giusta anche se tu non lo vuoi perché non posso andare a cena con una mia amica è testimone? sì è battezzata? sì papà sarete da soli? sì papà allora non è appropriato perché potrebbe nascere qualcosa di scorretto o di profondo per il quale non sei ancora maturo ma papà sai che non succederà nulla lo spirito è forte ma la carne è debole l'unica cosa giusta che feci fino al giorno del mio distacco dai testimoni di Geova fu quella di studiare tante fonti diverse dal materiale che veniva servito dalla società dei testimoni di Geova confrontarle tra di loro e cercare di trarre delle conclusioni obiettivi cominciai a capire allora come il divieto delle trasfusioni di sangue non era biblico come il divieto di festeggiare i compleanni e come il divieto di frequentare amicizie non testimoni man mano che continuavo a studiare capivo che le incongruenze erano troppe un dio amorevole non poteva preferire vederti morire piuttosto che accettare una cura che lui stesso non ha mai vietato se Dio è definito nella Bibbia il felice Dio e ci incoraggia ad usare le nostre facoltà mentali e a sviluppare la qualità del discernimento non può pretendere dai suoi servitori una vita basata su regole che abbattono il dono più prezioso che ci ha donato l'intelligenza e il libero arbitrio parallelamente mi rendevo conto che i miei compagni di scuola le cattive compagnie non erano poi così diverse dai testimoni di Geova che frequentavo non fu facile dal giorno in cui comunicai la mia famiglia la mia decisione mia sorella e mia madre smisero completamente di parlarmi mi fermo un attimo qual è questo discorso dei disassociati ci sono delle testimonianze di disassociati cioè di persone che sono uscite dal gruppo dei testimoni di Geova e queste persone raccontano che una volta che loro hanno abbandonato questo gruppo religioso addirittura i loro familiari hanno smesso di parlare con loro quindi il testimone di Geova riferiscono queste testimonianze il testimone di Geova che abbandona la comunità non i i suoi parenti i suoi amici i suoi conoscenti i testimoni di Geova da quel momento non hanno con lui più nessun tipo di rapporto continuiamo a leggere la testimonianza mangiavamo in orari diversi mi evitavano l'unico che mi parlava era mio padre naturalmente solo con la Bibbia alla mano e successivamente visto che da solo non riusciva a tener testa ai miei ragionamenti mi chiese se ero d'accordo ad incontrare due anziani ha consentì appena hanno capito che non sarebbero riusciti a recuperarmi mi hanno detto a noi non interessa argomentare sulle tue opinioni ci interessa solo sapere se hai deciso di metterti contro le direttive del corpo direttivo oppure no io risposi che non avevo alcun interesse a mettermi contro di esso ma che semplicemente non erano non ero in linea con le loro dottrine e avevo deciso pertanto di distaccarmi loro mi dissero sai che così facendo stai ripudiando la tua famiglia e tutti i tuoi amici vero? e risposi che non era assolutamente vero che se un amico era davvero tale e se la mia famiglia davvero mi considerava parte di essa non avrebbero considerato il mio cambio di ideologia come un ostacolo all'affetto essi affermarono che aperte virgolette Geova fa polizia nella sua organizzazione e il vuoto che hai lasciato nei tuoi genitori e amici suoi fedeli servitori sarà presto da lui ricolmato da allora conclude questo ragazzo mi sono trasferito da alcuni amici piano piano mi sto ricostruendo una vita nuova quindi in sintesi qual è la questione di Zer associati ho già detto da una parte abbiamo delle testimonianze numerose persone che hanno lasciato questa comunità religiosa e che dicono adesso che non sono più testimonio di Geova mio padre che è testimonio di Geova non mi parla più mia madre testimonio di Geova non mi parla più mentre se andiamo a leggere quello che dicono i testimonio di Geova su questo argomento la loro versione è diversa leggo dal loro sito chi si battezza come testimonio di Geova ma poi smette di svolgere l'attività di predicazione e magari non si associa più con i propri compagni di fede non viene evitato neppure chi si rende responsabile di un grave errore viene disassociato o allontanato automaticamente tuttavia se un testimone battezzato ha una condotta in contrasto con le norme morali della Bibbia e non si pente viene disassociato a questo riguardo la Bibbia si esprime in modo chiaro due punti aperte virgolette e citano un versetto della Bibbia rimuovete l'uomo malvagio di fra voi ora quindi abbiamo sembrerebbe due versioni differenti da una parte numerosi ex testimoni di Geova i quali si lamentano del fatto che i loro parenti i loro amici non hanno più rapporti con loro dall'altro abbiamo invece la versione testimoni di Geova che ufficialmente è quella di no no se uno abbandona il nostro gruppo religioso non è che non gli parliamo più non gli parliamo più se però si comporta male e non si pente se mi sembra un po' questa la questione se ho capito bene il ragionamento dei testimoni di Geova è questo loro partendo da una particolare interpretazione di alcuni versetti della Bibbia fanno questo ragionamento Dio nella Bibbia ci dice che quando una persona sbaglia pecca preferite questo termine quando una persona prende una strada sbagliata noi gli diciamo che sta sbagliando se non ci vuole ascoltare allora noi per il suo bene per fargli capire che ha preso una strada sbagliata noi per il suo bene facciamo come se non facesse più parte della nostra comunità e quindi questo allontanamento questa esclusione avrebbe l'obiettivo se ho capito bene di far capire alla persona che ha commesso un grave errore con questo noi abbiamo terminato questa breve presentazione di quella che è la decima religione più diffusa nel mondo i testimonio di gioa ecco